Domani saluteranno sia Chiellini sia Di Bala, le chiedo chi sarà il nuovo capitano della Juve, grazie Il nuovo capitano della Juve per gerarchie sarà Bonucci Bonucci se n'è andato Quindi se n'è andato e lì ha perso Eh se n'è zero, che dai fa? Quando uno riesce nella cosa si prende una decisione, è andato via, è tornato E ora il capitano fa un altro Se fa la fascia la compri e va in piazza a giocare con la fascia Ma lei lo sa, non è che...